Trapani, Calatafimi, Segesta, Castellana, Sicula, Petralia, Sottane e Butera. Sono questi i territori siciliani individuati nell'ambito della Carta Nazionale e aree potenzialmente donee che potrebbero dover ospitare un deposito di scorie radioattive. Sette le regioni al momento prescelte a livello nazionale, oltre alla Sicilia, ci sono anche Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Sardegna. Non era difficile immaginare che la vicenda potesse aprire un dibattito e generasse ampie preoccupazioni a partire da quelle dei sindaci dei comuni al momento selezionati che hanno già fatto sapere di non essere d'accordo dicendosi sorpresi, sgomenti, preoccupati. Il sindaco di Petralia, Sottana, Leonardo Neglia, fa notare peraltro che il suo comune è sede dell'ente parco delle Madonie. Da un lato dice si vuole la protezione della zona, dall'altro si vogliono seppellire scorie nucleari. Sono insorti anche i primi cittadini di Butera, Filippo Balbo, di Trapani, Giacomo Tranchida, di Castellana, Sicula, Franco Calderaro. Intendono tutti opporsi a questo programma e non sopportano che il tutto sia stato deciso nella massima segretezza. Sembra decisamente servire a poco alle popolazioni interessate sapere che il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi sarà realizzato in un ambito di massima sicurezza. Si tratterebbe infatti, stando a quanto si apprende, di una struttura con barriere ingegneristiche e barriere naturali poste in serie, progettata sulla base delle migliori esperienze internazionali e secondo i più recenti standard dell'Agenzia Internazionale Energia Atomica che consentirà in prospettiva la sistemazione definitiva di circa 78 mila metri cubi di rifiuti di bassa e media attività. Tra scorie derivanti dall'esercizio e dello smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica dalla ricerca in medicina nucleare dell'industria è un tema che vede l'Italia in ritardo rispetto ai paesi membri dell'Unione Europea tanto che siamo finiti anche su questo argomento sotto procedure di infrazione ma intanto anche i politici della Regione contestano il piano a nome del governo musumeci lo ha fatto l'assessore all'energia Alberto Piero Bon che nel far notare come la Sicilia abbia già dato tanto dal punto di vista ambientale ha già detto che tra le zone individuate per l'eventuale realizzazione del deposito di scorie radioattive quelle siciliane sono le meno adatte. Il procedimento è in atto ma si annuncia un forte braccio di ferro dopo l'individuazione definitiva del sito saranno necessari quattro anni di lavori e mentre il parlamentare regionale grillino Nuccio Di Paola ha già promosso un disegno di legge per la dichiarazione di territorio siciliano denuclearizzato per Carmelo Pullara niente di più grave poteva inaugurare il 2021 dopo mesi di ansia e preoccupazione a causa della pandemia sul tema dire di no e anche BC Sicilia, organizzazione ambientalista per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali ambientali che parla di ipotesi irricevibile chiarendo anche come la Sicilia si caratterizzi per una serie di parametri che sconsiglierebbero la realizzazione di un centro di stoccaggio perpetuo di scorie nucleari a partire dalla sua alta sismicità no anche da Claudio Fava per il quale le aree interne della Sicilia hanno bisogno di investimenti non di rifiuti radioattivi Michele Catanzaro ha presentato un'interrogazione per chiedere al governo di opporsi a questo progetto considerato che la Sicilia, dice, non può puntare su turismo e agricoltura se poi deve anche smaltire i rifiuti radioattivi con una decisione che il parlamentare Sacenze definisce senza mezzi termini umiliante